ok vediamo questo nereide venezianico nereide praticamente con il quadrante madre perla le sfumature dei colori sono meravigliose allora gli indici sono applicate sul quadrante la croce è applicata sul quadrante e stampato in bianco e le diciture venezianico nereide tungsteno comprese gli indici dei secondi o dei minuti non vogliamo interpretare abbiamo la corona a vite che ha un un ottimo grip e si avvita molto facilmente a una presa di praticamente di avvitaggio che è molto molto bellissimo si avvita subito allora la casa in 316l compreso il bracciale che si eterna tra satinatura e bisellature lucidate specchio varie bisellature compresa la lucidatura specchio delle copri spalle per la corona il fondello è avvitato a 6 viti con disegnato praticamente il sommergibile nereide le varie diciture praticamente sul fondello venezianico acciaio 316l 20 atmosfere automatico e vetro in zaffero sul lato lato bordo più esterno del quadrante del fondello praticamente è lucidato a specchio un orologio elegantissimo e il primo praticamente questo hanno messo la dicitura tungsteno non madre perla perché il primo ne erede da 39 mm di diametro che monta l'inserto di era in tungsteno potete vedere sfumature del tungsteno molto molto belle vetro anti riflesso in zaffero dopo vedremo con la macchinetta il bracciale classico canova le maglie h praticamente la stremate sono satinate la parte centrale delle maglie sono lucidata specchio come potete vedere il sedatura specchio molto belle qui abbiamo la chiusura a farfalla con al centro logo di la croce veneziane con l'apertura con i due pulsanti laterali molto elegante lucidata specchio la parte interna possiamo vedere elegante che dire andiamo provare questo miota serie 9000 al cronocomparatore a dopo ok siamo qui al cronocomparatore come possiamo vedere da sentire anche dal suono è un 28800 alternanze un bit aero di 0.1 è ottimale un abitudine di 2 219 e praticamente un scarto giornaliero di secondi e più 8 più 7 vediamo più 5 questo miota più 7 ok dai siamo dentro della tolleranza secondo me vedremo l'orologio è nuovo vedremo se un po' di rosaggio ok andiamo alle conclusioni ok siamo alle conclusioni allora se venezianico voleva prendere una clientela femminile con questo orologio ci sono riusciti un orologio molto elegante bellissimo le dimensioni sono molto ridotte quindi andiamo a dare anche due valori allora abbiamo 39 mm di diametro un lag to lag abbastanza contenuto in 45,5 mm e uno spessore di ben 10,5 mm praticamente abbastanza sottile per essere un automatico perché monta un calibro miota della serie 9.000 in questo caso il 9.039 che dire hanno pensato anche per forse un clientela femminile secondo me questo è ideale ci sono due modelli uno blu o celestino sempre il madre pella e uno il madre pella nero molto bello anche nero io ce l'ho il madre pella nero ho voluto questa volta prendere questo qui madre pella blu per vedere le differenze non è la stessa cosa però volevo vedere delle quadrante differenti vediamo se il vetro è esaffiro sicuramente non deludono il vetro esaffiro la luminescenza vediamo un attimo la luminescenza che praticamente il pigmento è un bg w9 super luminova un buon florescenza una buona florescenza c'è anche il dot qui che dire all'anno nominato no no e madre pella ma in tughestino perché questo è il primo nero da 39 che monta quest'anno monta e diciamo in certo in certo gli era in tughestino che dire un orologio molto elegante e bello non si può dire nulla e manifattura eccessiva bellissimo al prossimo video ciao ciao